Sono arrivati gli inglesi, non so, erano neri, comunque dicevo gli inglesi, gli americani. Quando sono arrivati, cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto i tedeschi? Io abitavo giù qui dalla corsa, c'era una cascina, abitavo lì, si aveva fatto un rifugio in campagna, c'erano dei pioppi, sai, i pioppi alti, il padrone si è fatto segare le piante, abbiamo fatto con i tronchi, abbiamo scavato per terra, poi coperto con questi tronchi, lì era il nostro rifugio. E quando sono arrivati alla sera sono passati dei tedeschi che venivano da Bologna e si sono fermati proprio lì dalla nostra cascina e l'hanno detto loro, andate via, andate via che fra poco arriva gli americani che bombardano tutto, andate via, andate in rifugio, andate in rifugio. E infatti i tedeschi si erano tutti ritirati, erano tutti a lungo, non sai dire dal cascino ad andare al fasenio, un chilometro, neanche un chilometro, eravamo proprio vicino al fronte noi altri, erano tutti, adesso era una strada di campagna non asfaltata, solo abbattuta, c'erano le fossette per scolare l'acqua, erano tutti nascosti i tedeschi dopo il nostro rifugio che noi non lo sapevamo, dentro in queste cose, in questi fossi. Gli inglesi, quando arrivai, si vede che loro lo sapevano perché hanno bombardato la corte, il turon, anzi loro erano da su, hanno ucciso un ufficiale inglese, proprio sulla scala del... Un ufficiale tedesco? Un ufficiale inglese, perché loro erano nascosti, erano nascosti su e poi dopo gli attacchi al fuoco, e allora da lì gli attacchi a bombardare tutti, gli attacchi a combattere, c'erano tre fila di carri armati, proprio dove abitavo io, la nostra casa, la nostra camera da letto, accendato il fienile, ha acceso il fuoco nel fienile e poi c'era la canna Palure, là era il posto dove dovevano accumulare tutti i cosi della canna, tutti il resto della canna, come i stick, il rifiuto, le tenevamo tutti da conto perché era il nostro fuoco, hanno acceso tutto, c'era tutto il fuoco dappertutto.